ola a tutti buongiorno a tutti buongiorno buongiorno per tutto il giorno allora riesco non mi ricordo se questo l'ho recensito oppure no per solito sto già mezza bacetta è un ottimo aroma 120 ml con la classica grigerina, nicotina sauretica, cipacciop e vippo blu da papirina, gente speciale limone, arancia e ice, ice ice come dice la sinistra ice ice in the mais tanto non si legge perciò c'è poco da fare possiamo mangiare un po' di panna sul mio profilo aile aile sandemail a 50 watt se no grazie al consiglio sul video dimmi che vi consiglio di andare a vedere sono scelto d'altro esperti e io non lo si bevo e non sono nemmeno esperto la frutta sa gocci a più di 50-60 watt non la vendate proviamo tanto lavoro nel mio profilo, tanta roba, tante cose la rama è perfetta fresco, ti lascio fresco la colla e tutto quanto monta perna secca c'è un unico problema, almeno il mio gli grumi come troppi ad esempio lo strudel di mandorle quello, quello, quell'altro strudel di mela, che noci mi stucca, no? mi stucca, no? e quindi c'è il rischio che o si regala o si deposita là nel deposito giudiziarico eh 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 vabbè con l'ultima sbapata di saluto e che non vi a mercoledì sull'appia con la propria auto d'epoca è un gran cornuto eh eh ciao ciao